Ragazzi, per me è arrivato il momento dello spuntino, per cui a me olio e pane. Perché il miglior modo per assaggiare un bell'olio è con una bella sutta di pane. Salute! Fantastico! Ciao ragazzi, buon appetito, alla prossima! Sì, sì, perché è un bell'olio, è un gran bell'olio! Perché ti fa visualizzare il colpito! Cazzo, è un gran bell'olio! Grazie a tutti!